Ciao a tutti, sono Maurizio Di Silvestro, sono un preparatore atletico, sono docente presso l'Oxen, un centro sportivo educativo nazionale, e tanto che non ci vediamo. Di solito non faccio questo tipo di dirette, però in questo momento dove tutti siamo in un isolamento forzato, è necessario trovare modi alternativi di allenarsi e di stare insieme. Visto che le palestre sono chiuse e tutte le attività sportive sono sospese, dobbiamo tutti collaborare cercando di preservare la nostra salute fisica e mentale. Sperando che questo periodo duri il più breve possibile, cerchiamo di mantenerci in forma il più possibile. Questa settimana vi propongo tre allenamenti da effettuare a giorni alterni.